Una giovane donna, nel tentativo di comporre una scatola acquistata a Ecrea, è deceduta dopo 27 giorni di invani sforzi. La donna è stata trovata dalla vicina, allarmata dal continuo ronzio del trapano a batterie sul quale la sventurata ha perso conoscenza. Ricordando che si tratta di un caso assolutamente isolato, Ecrea esprime il suo corduglio, esortando le giovani donne ad acquistare i prodotti componibili.